Un gradito ritorno al Giardino delle Idee. Marco Malvaldi, autore della strampalata, improbabile, arguta squadra investigativa dei vecchietti del Barlume di Pineta ed in un altrettanto indimenticabile perlegrino artusi coinvolto in un'indagine degna del miglior Poirot, torna ad Arezzo, appunto al Giardino delle Idee, sabato 9 marzo, per presentare il suo ultimo giallo, Milioni di Milioni. È il paese toscano di Montesodi Marittimo, nella personalissima e fantasiosa geografia di Malvaldi, il teatro di questo giallo, dove a risolvere il mistero dell'omicidio di un'anziana signora sono coinvolti due detective improvvisati, come succede nei romanzi di Malvaldi, un genetista, Pier Giorgio Pazzi, e un archivista, Margherita Castelli. Ancora una volta un teatro fatto di personaggi caratteristici e indimenticabili, perfettamente descritti nella loro singolare e dissacrante toscanità, per una trama dove si intrecciano figure indimenticabili, colpi di scena e umorismo, nello stile tutto particolare, efficace e perfetto nelle sue combinazioni, cui ci ha abituato Malvaldi. Appuntamento quindi con Marco Malvaldi e il suo Milioni di Milioni, sabato 9 marzo alle ore 17, nella Sala delle Muse del Museo d'Arte Medievale Moderna di Via San Lorentino, come di consueto con ingresso libero e gratuito.